Ciao a tutti ragazzi, sono Pianetra, sto tornando, ben tornati con questo mio nuovo video ci troviamo qua veloce, un piccolo vlog veloce questo è per mostrare che ho comprato il computer che non oggi ma forse nei prossimi giorni, nei prossimi settimane quasi sicuramente usciranno video questo è l'ultimo brand che farò con il cellulare farò comunque registrazione ma comunque caricherò tramite il computer quindi sto aggiornando purtroppo è già un po' che lo sto registrando probabilmente non registro oggi video perché domani prenderò il tempo per sistemare, per scaricare alcune cose infatti se sentite sottofondo sto ascoltando mentre sto scaricando ho un video di Giastrone Ghost Red questa è una camera però non è la mia ho iniziato l'affitto ai mio padrone in casa però in questo caso sono mesi che non l'affitta più non l'affitto per utilizzare come camera per intanto per registrare i video anche se la farà comunque anche all'esterno come ho fatto nei scorsi video perché comunque la mia camera è un po' un casino attualmente e poi c'è quel marrone sul muro che non è proprio il massimo come colore per fare video finché mi lascerà così farò video qua non è grandissimo però come camera per vivere più in là c'è comunque la cucina e così di fuori si è del giardino a malapena però comunque si vede e niente era giusto per dire che tra un po' andremo in live adesso dipende aspetta magari che si scarica dopo non credo che farò già oggi qualcosa con il computer e che dire d'altro niente tra poco ci sarà la nostra carriera con le star in live io non so che dire anche ieri sera abbiamo raggiunto le 100 live e 100 visualizzazioni veramente questa settimana è stata impressionante quanti di voi quanti di voi si stanno vi sta piacendo questa carriera quanti si stanno interessando per la mia carriera sempre più gente si presenta a vederle anche se non si iscrive a vedere la mia live pian piano stanno crescendo neanche due mesi abbiamo fatto 50 iscritti veramente io non aspettavo così tanti iscritti come ho già detto è il bello che lo sto facendo senza senza fare iscritto ricambio l'ho sempre detto anche durante le live non è il mio scopo adesso sembra che sia tutto a posto che dire ragazzi ci vediamo tra poco questo è un veloce video per dire che il computer è arrivato e tra poco andremo a live tra mezz'oretto o un'oretto non lo so vedremo innanzitutto iscrivetevi al mio canale se ne siete ancora iscritti lasciate un bel mi piace per questo arrivo commentate su consigli sui prossimi video adesso non so se riuscirò a registrare i video per la play al suo pc non lo so comunque le live continueranno adesso forse usciranno come inizio per come provo usciranno video su Clash Royale giusto per provare portare da zero un video io ho già due account e vorrei portare video con un account a zero senza spendere soldi sopra magari ogni tanto portare anche qualche video dagli altri account che dire ci vediamo tra un po' grazie e tutto ciao ciao ciao